Buongiorno a tutti, riprendiamo la mattinata col terzo modulo. Oggi è venuto a trovarci il nostro direttore Caritas Don Mimmo Francavilla che è anche stato partner della nostra iniziativa e quindi cedo un attimo la parola a lui che introduce la lezione. Poi seguirà la lezione che oggi è un confronto a due che vedrà le strategie di azione e gestione di una cooperativa di produzione e promozione dei prodotti tipici. Buongiorno a tutti, grazie rossa, un breve saluto da parte mia, ci tenevo a essere presente in una di questi due giorni, se non altro per evidenziare e sottolineare alcuni elementi. Il primo è che come Chiesa diocesana in questo biennio stiamo riflettendo sul lavoro, sulla dimensione del lavoro, sulla dignità del lavoro. E questo attraverso un processo che sta coinvolgendo tutte quante le componenti della Chiesa. Però non dobbiamo dimenticare che non si tratta di una novità di questo programma pastorale, la famiglia tra lavoro e festa, ma in qualcosa che viene da molto più lontano, proprio dalla presenza del progetto Policoro nella nostra diocesi e poi di uno dei gesti concreti più grandi che abbiamo avuto, la nascita del progetto Barnaba. La preoccupazione è per il lavoro che manca, ma la preoccupazione è anche quella di evidenziare strategie perché si possano creare opportunità di lavoro e se non fosse possibile la creazione di opportunità di lavoro quantomeno quello di favorire una coscientizzazione delle opportunità che si trovano, si possono sviluppare sul territorio. Per questo motivo ringrazio anche gli animatori di comunità che a diverso titolo e con il coinvolgimento di realtà diocesane vicino alla nostra hanno potuto mettere su questa agenzia MAT5 per la formazione e la programmazione di questa agenzia è scaturito il laboratorio dal basso che è un modo specifico di coniugare la formazione a partire dalle tipicità del nostro territorio. Grazie a tutti voi che avete aderito a questa iniziativa con lo scopo di formarsi ma anche con l'obiettivo di rilanciare queste iniziative, queste attività, questa attenzione della Chiesa e della società civile ecco l'augurio di un lavoro proficuo ancora in questa seconda giornata e che veramente possano nascere tanti segni, non solo concreti ma di una speranza che possa continuare ad animare il nostro territorio. Buona giornata e buon lavoro a tutti. Grazie Ok, comincio io Va bene, possiamo cominciare scusate il ritardo ma nello splendido bed and breakfast dove ci avete mandato a dormire poi i signori, i titolari, ci tenevano a raccontarci oltre a averci dato un sacco di roba da mangiare infatti guardate Paolo è già ingrassato di un tiro e mezzo quindi ha dovuto andare a correre anche per questo motivo per cui ok no però è stato molto interessante perché in realtà ci ha raccontato un sacco di cose di risorse territoriali che sono presenti e in qualche modo ci hanno confermato che ci sono un sacco di opportunità in questa terra questa è la cosa interessante sono due persone che facevano un altro lavoro che giunti a un certo punto della loro vita hanno sistemato i figli più o meno insomma e che hanno detto vabbè apriamo un bed and breakfast incontrano gente che viene da tutto il mondo ci hanno detto che mancano due aree paesi scandinavi gli mancano i cinesi per il resto hanno visto gente che viene da tutto il mondo per cui è anche interessante dal punto di vista culturale in un certo modo la cosa più bella almeno dal mio punto di vista è stato di vederli appassionati abbiamo usato il termine per loro quel lavoro lì è una specie di gioco hanno finito di fare un lavoro si sono costruiti un parco giochi e hanno avuto la possibilità di fare un lavoro che li appassiona molto e credo che questo debba essere un po' la prospettiva nella quale provare a metterci anche quando parliamo di valorizzazione dei prodotti tipici del rapporto col territorio, con le comunità eccetera questa mattina con Paolo abbiamo pensato di lavorare un po' in questo modo di provare a vedere alcuni degli elementi delle funzioni aziendali che sono presenti nell'esperienza della cooperativa Le Giorgiche e di provare a farceli raccontare dal punto di vista della loro esperienza aggiungendo, integrando qualcosa dell'esperienza che abbiamo raccontato ieri della Sparagorosa su alcune cose però chiedendo anche a voi di fare domande di porre questioni con l'idea questa mattina di esplorare quelle che possono essere funzioni aziendali critiche diciamo così cose che è opportuno affrontare nel momento in cui si decide di fare un lavoro di fare un investimento per la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici locali ok domande, dubbi, perplessità anche su ieri prego sulla giornata di ieri insomma se vogliamo la notte forse forse un po' di consiglio forse un po' di perplessità di dubbi se vogliamo affrontarle Irene hai dei dubbi no perché c'era Aurelio no Aurelio Umberto meno male che non c'è sono mi dava uno scappacione sei pronto? pronto? ok allora brevissima seconda introduzione ieri avete visto parlando della Sparagorose cosa fa la cooperativa delle Sparagorose fa due cose fondamentalmente comunicazione e commercializzazione nel lavoro qui è uscita un'altra funzione importante che è quella della formazione le abbiamo messe su queste slide come tre cose assodate diciamo tre funzioni aziendali importanti che vogliamo in qualche modo presidiare che bisogna capire dove metterla anche nella prospettiva del laboratorio di oggi pomeriggio poi abbiamo individuato alcune altre voci diciamo così del fare impresa che possono essere interessanti che cerchiamo di esplorare questa mattina a partire dall'esperienza di Paolo e io farò un po' il non so come si dice il santoro della situazione santoro tutto attaccato santoro tutto attaccato faccio delle domande mi do delle risposte e no è vero e quindi chiedo a Paolo per esempio il primo tema è questo noi siamo in un contesto nel quale come dire siamo arrivati qua con due esperienze cooperative cooperative degli asparagicoltori la cooperativa le giorgiche e però già oggi mentre ne chiacchieravamo un po' in macchina vedevamo che il tema della cooperativa e del cooperare della cooperazione non è così scontato un conto è come dire avere una forma giuridica un conto è cooperare due robe diverse e quindi abbiamo detto ma cominciamo a parlare delle forme giuridiche come si fa quali sono le forme giuridiche e quali sono i pregi e i difetti delle forme giuridiche che abbiamo sperimentato noi nella nostra esperienza sul tema valorizzazione dei prodotti tipici locali eccetera eccetera Paolo vuoi cominciare a dire qualcosa tu su questo tema devi usare il microfono sulle forme giuridiche esistenti ancora di più proprio lo devo tenere così sulle forme giuridiche esistenti per poter affrontare il discorso della valorizzazione dei prodotti agroalimentari allora dalla mia esperienza nel 2008 quando abbiamo deciso di costituire questa cooperativa non avevamo intenzione di costituire una cooperativa perché noi avevamo l'idea progettuale il progetto però la forma giuridica no per questo motivo ci siamo fatti affiangare da progetto Policoro il quale insomma attraverso la loro filiera si chiama filiera no? filiera di formazione hanno hanno creato degli incontri ci hanno prospettato insomma le varie possibilità e abbiamo deciso di diventare di costituirci come cooperativa agricola e non cooperativa sociale nonostante eravamo tutti giovani sbandaggiati perché eravamo tutti neolaureati o laureanti o disoccupati quindi i requisiti di sbandaggio li avevamo per due motivi uno perché non ci piace essere sbandaggiati come concetto perché fondamentalmente uscivamo dal mondo del lavoro dal mondo della scuola della formazione quindi era ovvio che eravamo in cerca di prima occupazione due perché la forma giuridica cooperativa nasce da questo motivo perché i soci cooperatori che si erano messi insieme i soci e gli ideatori di questo progetto che si erano messi insieme per poter realizzare per poter creare le strategie di realizzazione del progetto eravamo legati siamo legati da un percorso di formazione precedentemente fatto che aveva consolidato i legami al di fuori dall'aspetto lavorativo al di fuori dall'aspetto del business al di fuori dell'aspetto della commercializzazione al di fuori dell'aspetto della comunicazione per la vendita dei prodotti che avevamo in mente di fare e al di fuori anche della produzione dei nostri prodotti questa formazione era dovuta ad una formazione che si era creata con legami di amicizia ma soprattutto in associazione di ispirazione cristiana la relazione cattolica il centro di studio giovanile anche l'impegno politico all'interno del territorio mi viene in mente Francesco l'assessore il nostro assessore ecco il centro turistico giovanile insomma avendo costituito insieme a loro insieme a questi giovani un percorso che ci ha fatto progettare insieme che ci ha fatto camminare insieme per un periodo abbastanza lungo una progettazione sociale diciamo così una progettazione di condivisione sociale di un'idea sociale di un'idea di come si vede il territorio l'idea della progettazione del progetto sulla cooperativa diciamo così nasce quasi come una conseguenza era una conseguenza di un percorso già fatto hai fatto già un percorso di formazione di unità di intendi di condivisione di una visione di una condivisione di un progetto e abbiamo costituito quindi la cooperativa ma solo per questo motivo per il fatto che eravamo sicuri ognuno di noi era sicuro che i singoli riuscivano a cooperare e a condividere il processo anche di lavoro di produzione di commercializzazione di formazione soprattutto quando è legato al business cioè quando è legato alla capacità di creare reddito per poter pagare gli stipendi per poter pagare le spese insomma quello che una cooperativa deve fare perché una cooperativa non ha scopo di lucro però deve recuperare la reddività idonea per poter pagare gli stipendi per poter pagare le spese che si affrontano e questo è l'unico elemento e oggi mentre riflettevo con Stefano su questa cosa mi viene in mente proprio che è difficile in realtà cooperare tranne se ci sono questi elementi di queste condizioni di cui prima e credo che una delle strategie più la prima strategia che bisognerebbe attuare per scegliere che tipo di forma giuridica dare alla nascente idea qui a Minervino credo che ci sia bisogno di un percorso di formazione molto profondo ecco bisogna formarsi a scegliere di cooperare perché questo è un mio punto di vista non siamo un popolo atto a saper cooperare a saper metterci insieme a condividere le a mio punto di vista è una questione storica culturale ne parlavamo ieri con con lui come la domanda la domanda la domanda bluciapelo di ieri sera è stata come si fa a combattere con la cultura meridionale io poi ho detto buonasera perché non c'era era la sua domanda bluciapelo ecco questa ecco è secondo me la formazione è il primo processo se dovessi dire quali sono i punti di forza ma anche i punti di debolezza della tua esperienza di cooperatore allora i punti di forza i punti di forza sono sicuramente il poter il riuscire a condividere con altri cooperatori le gioie e i dolori ovvero i fallimenti e i momenti in cui si riesce invece a realizzare il progetto perché ieri abbiamo parlato ieri mattina abbiamo parlato di un'idea e di come si fa una cosa però non è detto che questa cosa poi riesca non è detto che la ciambella esca col buco e quindi ho non tutte le ciambelle esca col buco e quindi non tutte le volte riusciamo a realizzare il nostro progetto e quindi si va incontro a un fallimento e quando si va incontro a un fallimento una cosa è fallire da soli una cosa è fallire insieme anche perché l'uscita la fuoriuscita da questo fallimento se è condivisa con altri cooperatori allo stesso modo è come dividere dico spesso è come se fosse anche i problemi economici o finanziari l'accesso a credito di cui parliamo dopo è come se fossero un sacco pieno di pietre che tu ti porti a casa la sera sulle spalle e quindi hai il pensiero di risolvere questo problema della liquidità dell'accesso a credito oppure di un progetto che non va per come doveva andare doveva andare è come se questo sacco lo dividessi con tutti i cooperatori no? perché i cooperatori su questo tema ti faccio un'altra domanda nella tua esperienza quando tornate a casa ciascuno di voi soci il sacco di pietre che avete sulle spalle ma è dello stesso peso per tutti? ah no non può essere dello stesso peso per tutti perché poi quando torniamo a casa è vero anche se poi spesso si condivide anche questo però non è dello stesso peso per tutti perché poi è anche una questione caratteriale una questione anche di formazione io dico che qualsiasi cooperatore agricolo, sociale industriale edile qualsiasi sia la forma di cooperativa sociale comunque è un imprenditore e chi imprende deve avere una capacità a poterlo fare e quindi è normale che non tutti hanno questa vocazione o lo hanno al massimo questa vocazione a poter scegliere di fare impresa quindi è normale che poi ognuno reagisce a questo peso in modo diverso e quindi ritrova le soluzioni a questo peso in modo diverso però a volte allo stesso modo nella parte positiva quando c'è un successo quando c'è un successo la spinta per poter continuare o per poter migliorare o innovare la strategia anche se è condivisa è ovvio che chi ha questa forma caratteriale un po' più imprenditoriale riesce ad avere una spinta maggiore ecco io dico sempre c'è chi è abituato ad alzarsi la mattina a fare quello che ha pensato e c'è chi è abituato a fare la mattina ciò che gli dicono di fare quindi sono due e spesso anche nella mia cooperativa mi ritrovo a dover avere a che fare con chi ha più una tendenza ad aspettare che qualcuno gli dica cosa fare piuttosto che avere la tendenza a dire ho avuto questa idea e voi di quale categoria siete di quelli che si alzano la mattina e si mettono a fare quello che hanno pensato durante la notte o di quelli che si alzano la mattina e aspettano che qualcuno gli dica di fare quello che qualcuno ha pensato di fare durante la notte adesso facciamo un giro di tavolo lei per esempio dipende è una risposta che non vale deve dire o di qui o di là la prima ipotesi ok poi tu che hai un'impresa agricola familiare e non una cooperativa per esempio la prima la prima tu sei io la so ma vaffanze noi non ci conosciamo ciao io sono Stefano ieri pomeriggio non ho potuto ti sei perso lo so me l'hanno detto però senza dubbio la prima anche se sono studente quindi mi ci devo medesimare ancora è uguale anch'io cioè tendenzialmente l'ideale è la prima però poi con gli imprevisti che capitano durante la giornata cioè la bravura è poi saper fronteggiare gli imprevisti ieri rimanere annunzio allora io vorrei rispondere alla seconda perché siamo abituati a livello culturale anche a fare quello che altri ci dicono però le circostanze mi costringono a pensare la notte quel che devo fare Maria ahimè la prima però io ci penso non solo la notte prima di addormentarmi pure la mattina appena sveglia c'è un elenco pronto che mi aspetta lì e faccio per me e per gli altri Michè è la prima Rosane io adesso faccio quello che penso la notte come stavamo dicendo ieri le idee beh però posso dire una cosa probabilmente non è un caso che in questo gruppo prevalga la prima invece che la seconda sai che non puoi parlare senza microfono non puoi parlare senza microfono quindi le cose che dici non esistono senza microfono dipende sempre dal tipo di attività che l'imprenditore svolge o che dovrà svolgere o che intende svolgere non si può fare un discorso generalizzato per tutti i tipi di attività lavorative un po' quello a mio avviso ognuno può pensarla come è un po' secondo me c'è un'altra questione in ballo nelle parole che ci ha raccontato Paolo c'è una questione fondamentale quando si fa un'impresa quando si sceglie la forma dell'impresa c'è sempre in ballo una questione di leadership ora a parole siamo tutti leader io faccio quello che penso di notte poi nei fatti siccome non basto da solo spesso come minimo ho bisogno dei collaboratori come minimo per cui di generali senza truppa c'è pieno così in questo paese però qualcuno deve andare a lavorare nei campi se vogliamo fare la valorizzazione dei prodotti tipici locali non possiamo fare tutti i fighi allora la questione della leadership nella mia esperienza è molto importante io parlo dell'esperienza della nostra cooperativa di asparagicoltori per esempio da noi una cosa che ha funzionato è stato sicuramente il fatto di avere leader del processo degli amministratori locali cioè il fatto che il sindaco e il vice sindaco il vice sindaco è stato il primo presidente della cooperativa di asparagicoltori il sindaco è stato uno che ha inventato questa visione di valorizzazione perché dico questo? perché la leadership è importante perché riesce a influenzare quelli che stanno intorno a tirarli dentro ad attirarli dentro a un processo a fare in modo che il processo abbia un seguito questa roba qua è assolutamente fondamentale e non sempre tutti siamo pronti come dire a esercitare la nostra leadership nei confronti degli altri per noi stessi siamo quelli del caso 1 mi alzo la mattina e voglio mettermi a fare quello che ho pensato durante la notte poi mi accorgo che da solo non riesco a farlo ho bisogno di farlo con gli altri e allora cominciano i problemi adesso non so nella mia esperienza almeno è così allora avere qualcuno che è capace di fare in modo che per usare le parole di Paolo si condividano delle visioni delle idee che si facciano durante le notti si facciano dei sogni comuni in modo che alla mattina ci si trova e dice oh ma che bello abbiamo sognato tutti la stessa cosa vogliamo fare quello che abbiamo sognato di notte sì benissimo per fortuna più o meno è la stessa cosa però la questione della leadership è una questione fondamentale e appunto nella nostra esperienza dicevo questa compresenza di una leadership imprenditoriale e politico istituzionale è stato molto forte perché poi per esempio ci ha consentito di condividere con l'amministrazione comunale anche dopo che quello che prima era vice sindaco presidente della cooperativa è diventato sindaco e quello che era sindaco non è diventato presidente della cooperativa è andato a fare altro insomma però diciamo l'accompagnamento di tutto il processo è stato molto legato a delle scelte come dire politiche locali e questo è stato un aspetto fondamentale lo dico per esempio per chi collabora con l'amministrazione comunale pensare di fare la valorizzazione delle tipicità territoriali senza una forte alleanza con l'ente locale diventa molto difficile a prescindere dal colore non sto parlando se uno di destra di sinistra civico in civile eccetera non mi importa il colore quello che è certo è che per il ruolo che le istituzioni locali hanno nel governo del territorio è un elemento fondamentale che ci sia un'alleanza tra chi decide di investire sulla valorizzazione delle tipicità e chi governa il territorio questo sicuramente è un aspetto importante da questo punto di vista un'altra cosa che forse possiamo dire sulle forme giuridiche è la distinzione tra profit e no profit io faccio il cooperatore per cui qualcuno si aspetterà che faccia un'esaltazione del no profit in realtà siccome vengo dal profit penso sempre a una cosa che tutte le persone che onestamente lavorano e che pagano gli stipendi e che sono leali nei confronti dei loro collaboratori sono persone che rispettabilissime che poi decidono di essere profit non profit come dire può essere una scelta etica culturale di ciascuno di loro indifferentemente però un imprenditore che per il proprio profitto decide di rischiare di investire e che in questo rischio come dire riconosce la dignità delle persone con cui collabora secondo me fa un lavoro assolutamente nobile e che va sostenuto e che va sostenuto quindi la questione profit e no profit io dal punto di vista della forma giuridica come dire non posso dire di avere una preferenza di natura culturale etica so una cosa però questo la metto lì sul tavolo che con le organizzazioni non profit è più facile per le istituzioni interloquire per cui se pensate a qualcosa nel vostro territorio sappiate che per una pubblica amministrazione locale fare una convenzione con una onlus è molto più semplice che farla con una società for profit banale ma questo è un elemento fondamentale ci sono fior di leggi che stabiliscono che convenzioni in un certo modo con le onlus si possono fare con le non onlus non si possono fare questo per esempio ci definisce anche un po' una cosa su cui possiamo lavorare giorno pomeriggio fare un'associazione una cooperativa un consorzio quello che volete che sia non profit ci consente di interloquire con la pubblica amministrazione di accedere a fondi pubblici contributi europei eccetera molto più facilmente ricordate che ieri dicevamo che c'è il problema di accedere ai fondi europei che li rimandiamo indietro eccetera se facciamo una non profit se facciamo una onlus abbiamo più facilità di accesso a queste risorse il che non significa che chi non è no profit non partecipa al progetto perché diventa socio dell'associazione quindi l'associazione è lo strumento attraverso il quale si fanno alcune cose alcune sono uscite ieri altre le vedremo speriamo che altre ne escano oggi pomeriggio ma che ci consente di accedere a una serie di opportunità alle quali probabilmente ciascuno individualmente in ragione anche della propria forma giuridica non avrebbe accesso questa è un po' la scommessa del mettersi insieme dico un'altra cosa anche riallacciando poi Paolo ti faccio un'altra domanda un altro elemento secondo me importante della forma giuridica è qual è il livello di coerenza tra la forma giuridica e non so come chiamarla la comunitarietà del tema valorizzazione di un prodotto tipico locale quando parliamo di un prodotto tipico locale abbiamo visto ieri è anche una questione di una comunità che si riconosce in un prodotto in una storia in una narrazione eccetera eccetera naturalmente come dire la forma giuridica più è collettiva e più si sovrappone nella comunità e quindi c'è una coerenza di fondi è più semplice parlare di valorizzazione di un prodotto tipico locale comunitario quando dall'altra parte lo strumento con cui faccio questa cosa è in qualche modo espressione della comunità a questo punto di vista per esempio le proloco che sono un'associazione di persone sono uno strumento molto valido perché sono associazioni di cittadini di liberi cittadini che aderiscono con lo scopo di promuovere il paese la comunità eccetera eccetera la stessa cosa fatta da un'impresa individuale da un'impresa for profit non ha lo stesso potere in termini di partecipazione attiva della comunità a questo processo non so se è chiaro quello che sto dicendo per cui ripeto non ne faccio una questione di valore etico ne faccio una questione di maggiori opportunità o minore opportunità e di maggior coerenza o minor coerenza non tanto per dire chi ha una vita for profit individuale la chiuda e faccia una cooperativa quanto per dire proviamo a cercare quelle soluzioni che consentono di dare il giusto valore tanto alle imprese individuali alle imprese familiari alle for profit eccetera quanto alle altre esperienze in maniera da accedere alle opportunità da una parte ma anche di presentarsi come una forma giuridica coerente con un disegno comunitario l'esperienza nostra della cooperativa degli asparagicoltori la cooperativa è una onlus ma i soci conferitori sono sono imprese agricole for profit tranquillamente tutti tranne uno per cui non so se è chiaro questa questa questione è una questione da capire bene dove collocarla guardo voi perché voi avendo un'azienda di famiglia siete for profit poi dico for profit ma chi riesce a fare profitto con l'agricoltura devo ancora conoscerlo ma questo è un altro discorso dico for profit per parlare della forma giuridica naturalmente non tanto del fatto che ci si arricchisca facendo facendo gli agricoltori anzi va bene domande e dubbi perplessità rosa giovanni michele vincenzo vincenzo indietro rispetto a quello che ci stiamo dicendo perché volevo chiedere al dottor sessa non so se è stato detto ieri le georgiche come cooperativa come si strutturano in qualità di numero membri e cosa commercializzano qual è il mercato di riferimento insomma avere un quadro andiamo avanti stiamo andando avanti allora non so se dopo prima è meglio così la mi cooperativa è una cooperativa di produzione e lavoro innanzitutto una cooperativa di produzione e lavoro agricolo fondamentalmente nasce con l'idea di produrre e commercializzare e valorizzare i prodotti che produce nel percorso che poi invece ha intrapreso si è trovata a produrre comunque ma a ingentrare la sua attività soprattutto nella valorizzazione e nella commercializzazione di alcuni prodotti agricoli di altri soci conferitori che conferiscono i prodotti all'interno della cooperativa quindi nasce con una base sociale di sei cooperatori che hanno l'obiettivo di lavorare all'interno di essa poi si sviluppa con l'ingresso di soci conferitori che conferiscono il prodotto assoltando al fine di poter commercializzare il prodotto stesso quindi diventa una cooperativa mista fondamentalmente il canale commerciale è fondamentalmente quello di queste due botteghe che abbiamo nelle due città più grandi della provincia che sono tra l'altro di Mitrofe una di 70.000 abitanti una di 50.000 abitanti abbiamo queste due botteghe all'interno della quale si commercializzano questi prodotti della cooperativa cioè quelli che proprio la cooperativa produce e quelli dei soci conferitori e in questo modo ecco questi cani di commercializzazione che ovviamente non basta per tanti motivi che non sto qui a spiegarvi ma soprattutto legati alla crisi economica al prezzo del prodotto tipico che è sempre più elevato rispetto alla grande distribuzione a volte al tipo di prodotto che si commercializza perché valorizzare un prodotto significa anche fare delle scelte fare delle scelte significa vendere la cimerape di Minervino e non la cimerape quindi la cimerape di Minervino costerà un euro la cimerape costerà 90 centesimi e quindi il consumatore deve fare una scelta tra 90 e un euro qualità o non qualità e oggi si fanno i conti con le entrate con il reddito delle persone ecco perché non basta e allora abbiamo anche attivato altri canali di commercializzazione che sono e-commerce un e-commerce che ci porta a poter valorizzare i nostri prodotti in tutta Europa abbiamo fatto delle convenzioni con dei trasportatori che imballano il prodotto direttamente e lo spediscono direttamente a chi ce l'ordina questa cosa non è gestita direttamente dalla cooperativa ma abbiamo affidato ad altri volontari della cooperativa questo aspetto che è quello della commercializzazione del prodotto in e-commerce ci curano il sito ci curano l'e-commerce ci curano le foto vengono a farsi le foto non è una cosa che pesa a noi perché ci mancano gli elementi questi non sono soci della cooperativa ma sono amici volontari che si offrono a fare questa cosa e quindi riusciamo a gestire un po' l'e-commerce che è un ottimo strumento per valorizzare prodotti tipici che non è una onus è una cooperativa agricola di produzione del lavoro che ovviamente per il regime fiscale deve rispettare il regime del no profit è a mutualità prevalente e quindi non è a scattine di lucro poi ma come diceva lui interessa poco perché in agricoltura devo conoscerlo anche io chi fa reddito o meglio qualcuno lo conosco ma in realtà è un latifondista che produce migliaia e migliaia di quintali di prodotto e allora lì la marginalità potrebbe aumentare però nel frattempo ci siamo specializzati nella valorizzazione dei prodotti agroalimentari sempre di più nel marketing dei prodotti agroalimentari specializzati non significa non siamo ancora a livello eccellente però stiamo focalizzando la nostra attenzione sulla valorizzazione di particolari prodotti agroalimentari soprattutto ingentrando il discorso sui produttori che hanno una mentalità commerciale innovativa il nostro motto è innoviamo la tradizione fondamentalmente quindi prodotti tipici locali che possono essere innovati tanto è vero che stiamo avviando un processo che è già avviato di commercializzare di valorizzare i prodotti di alcune aziende soprattutto di aziende agricole giovani che hanno avuto delle buone idee e noi cerchiamo di affiancarle per l'aspetto commerciale abbiamo in cooperativa alcuni che sono laureati in economia o in economia aziendale che hanno queste capacità tanto è vero che da poco anzi in realtà ufficialmente dalla settimana prossima ma in realtà abbiamo iniziato già da giugno commercializziamo uno dei prodotti più innovativi che la Calabria sta sta facendo uscire da un giovane agricoltore che ha fatto una diciamo così ha avuto una idea un'idea regionale lui è originario lui è originario ah l'attacco però è originario di 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 Locri sapete dove è? zona di Bregandini è originario di Locri però vive da una ventina d'anni a Cosenza per motivi di lavoro i genitori e hanno questi grandissimi appezzamenti di terreno i famosi giardini i giardini nella Locri sarebbero gli agrumeti quindi hanno arange bergamotto limoni esatto arangì tipo arangì non è ha fatto una bevanda ha avuto questa idea quindi in un ex pastificio dismesso della città ha creato questo piccolo laboratorio e con i concentrati di questi di questi spremute di questi suoi prodotti ha creato un prodotto innovativo ovvero dei succhi di frutta 100% calabresi quindi con le arange calabresi anche perché noi uscivamo fuori siamo ancora nel percorso di dei fatti di Rosarno alla cronica nazionale sono emersi lo sfruttamento degli immigrati che raccoglievano le arange a quattrocentesimi a trecentesimi poi dormivano nei capannoni poi la ribellione dei caporali insomma tutto questo e avevano fatto una battaglia proprio per non lasciare solo la Rosarno il problema non è degli agricoltori che pagano poco gli operai gli agricoltori pagano poco gli operai perché la Coca-Cola gli paga quindicicentesimi l'arancia e la mano d'opera costa soltanto dodici poi deve mettere i trattamenti era a perdere ecco perché allora una campagna di sensibilizzazione tant'è che poi siamo riusciti a fare una legge nazionale che è quella di aumentare i succhi di arange dal 2015 lo vedrete anche sulla Fanta non più il 12% ma siamo arrivati al 20% questo 8% porta a chi produce arange miliardi perché significa mettere all'interno dei succhi di arange poi lascia stare che la Fanta andrà a prendere i succhi non più in Calabria ma andrà a prendere i concentrati in Brasile però è una battaglia che abbiamo vinto e quindi su quest'onda abbiamo creato questo giovane ha creato questi prodotti facendo dei succhi arange arange mandarino mandarino limone bergamotto age li produce lui con questi suoi succhi li fa senza conservanti e senza eccipienti perché l'innovazione dove sta l'innovazione sta che un succo di frutta è uguale a tantissimi altri succhi di frutta lasciamo stare la narrazione che adesso ho fatto valoriale però lui ha pensato se io li riproduco in bottiglia uscirò visto il costo della bottiglia uscirò fuori dal commercio con lo stesso prezzo di cui esce sandal yoga altri commercianti allora lui ha inventato il bagging box ovvero un box da 3 litri all'interno della quale c'è una busta sotto vuoto con uno spillatore e questo permette al prodotto una volta perché il problema del bar lui ha fatto prima l'indagine dei mercati il problema del bar qual era? perché usate la bottiglietta e non il litro? perché il litro se lo inizio oggi massimo domani sera lo devo finire se non ho una richiesta sufficiente di succo di pera di un litro nei due giorni devo buttare quello che mi rimane e quindi i bar utilizzano le bottigliette monodose però la bottiglietta costruisce più perché c'è il vetro l'etichetta la capsula e allora lui cosa ha pensato? faccio qualcosa di grande che duri 4 mesi anche una volta cominciato uno spillatore sotto vuoto mano a mano che il prodotto esce la sacca si restringe e il prodotto sembra fresco da quest'idea ha fatto il laboratorio è andato in giro per l'Italia a comprare i macchinari i pastorizzatori eccetera eccetera e adesso questo prodotto grazie alla nostra cooperativa perché poi non l'abbiamo appiangato nella fase successiva ovvero la commercializzazione la valorizzazione di questo prodotto all'interno del abbiamo iniziato dai bar e adesso andiamo negli alberghi negli hotel di commercializzazione di questo prodotto che sta avendo un successo già in tutta la Calabria e già abbiamo iniziato a giugno a girare il prodotto è uscito a fine luglio a fine luglio e già tutti i bar della Calabria tengono questo prodotto abbiamo già chiuso delle commesse con il Lazio e il Piemonte abbiamo trovato due agganci commerciali lì e stiamo cercando in tutte le regioni d'Italia degli agenti che facciano questo lavoro fondamentalmente di andare a proporre questo prodotto quindi una cosa di tre mesi fa ecco ci siamo specializzati nella valorizzazione dei prodotti agroalimentari e questo è un servizio che fa la cooperativa che alcuni soci sfruttando le loro capacità specifiche abbiamo messo ma non era nel progetto iniziale ma è l'esperienza che ci ha portato anche perché come qui siamo in un Eldorado in un territorio dove se vai in alcune zone d'Italia ma soprattutto all'estero sembra che tutto già è stato fatto nei nostri territori invece è un Eldorado di idee se si vuole fare se si vuole fare ce ne sono idee da sviluppare e quindi ogni cosa che tu imbari diventa un'innovazione per il mondo io lo so che commercializzare un prodotto è quello che fa un rappresentante però commercializzare un prodotto agroalimentare tipico e valorizzarlo non l'aveva fatto mai nessuno e l'abbiamo fatto noi ed è un successo dato appunto dall'esperienza anche dalla cooperazione che abbiamo messo in piedi quindi non soltanto tra noi soci ma anche tra alcuni altri soci conferitori che stanno iniziando a comprendere il progetto perché poi tra gli agricoltori è la peggiore categoria è la categoria peggiore gli agricoltori sono quelli che sono più individualisti tra le categorie eh non l'hai rete ma io lo dico sempre tra le categorie produttive l'agricoltore è il più individualista la cime di rapa che faccio io è sicuramente migliore di quello che fa il vicino perché io vedo che il vicino non ci dorme la notte che di riserva a questo punto spero di essere stato parlo qua io parlo no interessante la cosa che diceva Paolo tra l'altro ha cominciato già a esplorare alcune delle cose che volevamo poi affrontare in maniera un pochino più analitica per cui ha parlato di innovazione ha parlato di introduzione delle tecnologie però a questo punto io farei un passo indietro per provare a raccontarci lo start up della vostra cooperativa lo chiedo adesso che è tornato Michele anche Michele c'è un prodotto che spacca abbiamo visto stamattina a tavola esatto però adesso non lo dice perché insomma vuole brevettare chiederei a Paolo un attimo di parlare dello start up della loro cooperativa perché come avete visto è un'organizzazione intanto di conferitori e poi che si è trovata a svolgere appunto questa funzione di consulenza allo sviluppo di altri che in un certo senso come dire sono le caratteristiche che può avere un'organizzazione che si occupi di sostenere i processi di valorizzazione di prodotti tipici locali esattamente questo loro lo fanno con un piglio più imprenditoriale altri lo possono fare con un piglio più culturale ma nella sostanza stiamo parlando di funzioni molto simili ecco anche questa cosa è interessante nella nostra esperienza della sparagorosa stiamo parlando di una roba molto come dire diretta da una volontà politica nell'esperienza di Paolo avete visto una roba molto diretta invece da una volontà imprenditoriale ma con finalità simili anche qua è interessante per capire l'esperienza che vorreste costruire a Minervino o che vorreste costruire a Brindisi eccetera dove la collocate perché poi dipende da chi sono i partner e non i partner reali cioè quelli che ci investono come minimo del tempo perché i soldi bisogna anche averli ma il tempo più o meno quello in sacoccia ce l'abbiamo tutti lo start up della cooperativa allora come dicevo la cooperativa nasce prima come idea di produzione e di lavoro e quindi la start up iniziale quello del 2008 è stato uno start up che ha coinvolto soprattutto attori oltre questi giovani che poi sono diventati soci cooperatori ma in realtà il processo di condivisione dell'idea è stato molto più ampio è stato molto più ampio poi ovviamente chi ha deciso di investire all'interno di questo progetto siamo rimasti in sé quindi lo start up avviene in un territorio ben definito che è un territorio periurbano a pochi chilometri dalla città di territori poco cioè una volta adedita l'agricoltura un'agricoltura ovviamente polverizzata che non aveva un prodotto tipico non ha un prodotto tipico d'eccellenza come potrebbe essere la rape ma ha dei prodotti distinguibili io li chiamo prodotti distinguibili territoriali ecco per essere per creare una definizione dei prodotti distinguibili territoriali e quindi la valorizzazione di questi prodotti tipici territoriali era la nostra idea abbiamo coinvolto nello start up tutti quelli che si chiamano gli stakeholders tutti coloro che ci stavano già indorno che potevano aiutarci soprattutto visto che eravamo ora un po' di meno molto più giovani eravamo molto più giovani che potevano starci a fianco soprattutto nella gestione dell'uscita pubblica perché nel momento in cui poi emergi all'interno di un territorio tu diventi una personalità giuridica nel vero senso della parola sei un'impresa sei un'entità essendo giovani bisognava che cercavamo qualcuno qualcosa che ci affiancasse anche dal punto di vista morale quindi il nostro start up è stato uno start up di coinvolgimento di un territorio coinvolgendo il sindaco come diceva lui abbiamo coinvolto l'amministrazione che ci è stata a fianco almeno nei primi momenti dal punto di vista proprio di entusiasmo anche non dal punto di vista economico perché c'entrava poco però nella ricerca anche di terreni remaniali dove poter avviare le attività di produzione eccetera poi ovviamente tutti gli ambienti in cui noi eravamo cresciuti quindi l'ambiente parrocchiale il parco l'ambiente diocesano il bescovo il policoro la pastorella del lavoro la pastorella giovanile insomma un po' di fattori di suddustrato sociale che ci serviva appunto per poter essere ingoraggiati nel fare quella che era un'idea comunque condivisa da molti dopo di ciò lo start up ecco dal punto di vista invece imprenditoriale avviene col comporimento da parte di questi sei cooperatori di un capitale sociale che serve soprattutto ad avviare le prime attività di produzione quindi ad avviare i primi acquisti delle prime arnie per la produzione del miele per la formazione alla produzione e per l'apertura di un primo punto vendita perché la valorizzazione e la commercializzazione era soprattutto per territori come i nostri ma anche come questo che non hanno le aziende agricole o anche le cooperative non hanno una vastissima scala di prodotti cioè anche di quantità di prodotti non c'è un'economia di scala fatta di ettari e ettari di frumento che costano costa poco coltivarlo costa altrettanto poco venderlo la maggiorità è poco però su una grande scala riesce a creare il reddito per uno o due agricoltori la nostra cooperativa nasce con sei ettari di produzione di terreni sul fascicolo aziendale per indenderci quindi bisognava creare maggior reddito da questa attività e abbiamo creato il punto vendita anche perché la legge quadro sull'agricoltura del 2002 parlava proprio di questo l'articolo 4 dice proprio questo l'agricoltore oggi non deve soltanto coltivare ma può valorizzare commercializzare e quindi tutta la semplificazione che è nata adesso aprire un punto vendita aziendale ci vogliono una giornata rispetto ad aprire una fabbrica industriale insomma è un processo molto semplice quindi abbiamo aperto questo primo punto vendita all'interno del nostro territorio e questo ci ha dato la possibilità di farci conoscere all'interno dell'ambiente noi siamo sempre iscritti a col diretti e da lì nasce la seconda fase che è la fase di discesa diciamo così nel capoluogo usciamo dal nostro territorio del nostro piccolo paese di 3.000 abitanti andiamo nella città quindi chiudiamo la bottega nella piccolo paese se ne apriamo la bottega in città poi ne apriamo così un'altra e in questa fase di start up invece la comunicazione è diversa qui coinvolge non soltanto un piccolo territorio ma coinvolge un'area vasta che è quella della città dal punto di vista degli stakeholders anche le amministrazioni pubbliche della città la camera di commercio le organizzazioni di categorie ma soprattutto hai alle spalle 45 fornitori che quindi hai un volume di prodotto molto più molto più sostanziale che ha una forza maggiore quindi ricordo ancora oggi l'inaugurazione della prima bottega era una bolge di gente intorno a quel punto vendita perché era all'inizio del processo che Campagna Amica aveva avviato a livello nazionale quindi c'era una forte sensibilizzazione nazionale a punto di vista anche comunicativo ai telegiornali erano sempre presenti sui servizi su Linea Verde le bandiere gialle Campagna Amica e in città avevano riempito la città di manifesti di questa roba qua perché comunque la vendita diretta era una vendita di prodotti agroalimentari della provincia quindi tipici era un'innovazione straordinaria nel 2010 in una città come la nostra quindi è stato un processo che non soltanto di indiettoriale ma un processo che ha coinvolto completamente la città perché per i cittadini questo qua è un orgoglio finalmente posso andare a comprare la minestra che producono in questo determinato territorio della provincia finalmente potrò mangiare le vere clementine di Siberi finalmente potrò mangiare la vera patata egipi della Sila no questa è quindi ecco lì lo start up è stato uno start up comunicativo molto forte che ci ha dato la possibilità di avviarci con quattro soldi fondamentalmente perché gli investimenti nostri eravano veramente pochi però l'idea era talmente innovativa talmente di presa diretta che anche l'accesso a credito in quel momento è stato molto più facile per poter costruire queste queste due botteghe da lì ci siamo trovati anche un po' inesperti a gestire dall'idea iniziale di gestire quel piccolo ci siamo trovati in questa grande e quindi abbiamo abbandonato per un periodo per un paio di anni abbiamo abbandonato un po' la produzione cioè abbandonato significa non abbandonato quello che avevamo già fatto non incrementato non aver inseguito quel processo che avevamo in mente di fare ovvero di aumentare la produzione ci siamo fermati e abbiamo prodotto quello che riuscivamo a produrre perché poi i sei soci si sono tutti impegnati all'interno della commercializzazione e della valorizzazione e quindi non trovavo a parte me non c'erano altri che riuscivano a dedicarsi alla produzione cosa che oggi in una fase di maturità invece ma non siamo più nello start up ovviamente cerchiamo di creare un nuovo start up all'interno di un processo di maturazione perché oggi purtroppo fare impresa significa innovarsi ogni 2-3 anni questo è per quanto riguarda lo start up anche quello economico dimmi con il microfono vai due volte ok sto dicendo uno dei problemi con cui mi sto rapportando è proprio il fatto di andare in paese a esporre la propria idea nel senso tu vai dalla persona anziana e tu dici ma che vuoi vattene cioè il problema è proprio quello come avete fatto voi in soli 6 persone anche se vivete in un paese relativamente piccolo allora ti dico subito c'era una base c'era cioè io provengo da una famiglia agricola quindi io avevo una base di terreni che mi sono fatto affittare dai miei zii fondamentalmente per comprenderci oltre che da mio padre ecco questa è la quindi c'era una base poi diciamo che il processo è difficile cioè far sì affittare un pezzo di terra dal tuo compaesano per fare per sviluppare la tua idea è difficilissimo perché ritrovano a un discorso culturale l'idea mia è riavvicinare il sapere degli anziani alla nullafacenza dei giovani per fargli fare qualcosa il coinvolgimento secondo me bisogna coinvolgere la struttura chi è che parla con gli anziani in questo caso che parla comunica riesce a comunicare con gli anziani quindi bisogna coinvolgere in questo processo anche coloro i quali riescono ad avvicinare queste queste persone che te servono per poter realizzare la tua idea progettuale a noi servivano terreni da dover coltivare il mio parroco visto che noi abbiamo condiviso molto con la parrocchia con il parroco questo progetto il mio parroco il giorno della festa patronale mi ha fatto dopo la predica mi ha fatto salire sull'altare e spiegare il progetto e chiedere a chi era venuto alla festa patronale in tutto il paese di affettarci dei terreni ecco è un modo perché vi legittima qualcuno che ha un garisma che è il parroco in un paese il parroco ha un garisma quindi ah se ce l'ha detto il parroco ci possiamo fidare questi non ci rubano la terra ecco questo era per dirti bisogna affiancarsi soprattutto in questi territori bisogna affiancarsi o all'amministrazione pubblica come ha detto prima Stefano o alle associazioni o a qualcuno che già ha delle ma non soltanto perché io ma non soltanto perché la mia è un'esperienza di cooperativa ma anche se avessi fatto una SRL cioè non 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 per come vedo io l'imbresa e per come invece non la vedono per la maggior parte del sistema culturale soprattutto a Meridione l'imbresa è una cosa positiva non è una cosa negativa ecco quindi però non è una cosa scondata quello che sto dicendo perché noi sappiamo bene nei nostri territori che chi fa impresa è visto sempre con un'ottica un po' soprattutto in quei territori dove c'è poca imprenditorialità poco autogestione del proprio essere ma si è cresciuti con la mentalità della dipendenza pubblico privata che sia no? quindi chi fa impresa è sempre visto come quello che poi ruberà quello che ruba oppure quello che farà i profitti costruirà i villoni avrà il macchieri la macchina grossa e quindi oggetto di invidia di sono aspetti culturali che sembrano banali ma che esistono all'interno dei territori non lo so perché non sono banali anzi sono proprio sono proprio nel centro del problema però questa cosa noi ne eravamo consapevoli nel processo di iniziazione ne eravamo consapevoli e noi abbiamo detto noi non dobbiamo noi dobbiamo dirle queste cose dobbiamo comunicare che quello che facciamo non è qualcosa che porta del male al territorio ma porta del bene e quindi bisogna spiegarlo fare i convegni parlare con la gente comunicare e poi col tempo anche dimostrare anche dimostrare queste cose perché poi se le diciamo non le dimostriamo ma anche dimostrarle che tu fai qualcosa per il territorio che tu fai qualcosa che il territorio dovrebbe esserne fiero e orgoglioso di avere sei giovani che si sono impegnati innanzitutto non hanno abbandonato quel territorio uno che non hanno deciso come molti loro coetanei di abbandonare il territorio e andare a trovare il pane per i propri denti altrove no ieri dicevo a Stefano che il sud oggi ne facciamo parte della società immacuaria sta vivendo una fase di immigrazione come quella degli anni 50 degli anni 60 no i nostri genitori non hanno vissuto questa fase di immigrazione però se ognuno di noi guarda tra i propri amici o tra i propri familiari sa quando la gente non vive più nel territorio dove è nato no perché? perché è andata a studiare fuori perché vive fuori perché ha trovato un lavoro fuori questa è una cosa che bisogna comunicare nel territorio bisogna dire io scelgo di rivalorizzare questo territorio e bisogna avere la forza di affiancarsi a persone che a questo progetto ci credono come te nel caso mio sono stati il parroco sono stati un po' la di oggi devo dirti che il territorio proprio quello particolare quello del mio paese è stato quello più restio ovviamente no noi abbiamo terreni affittati in zone più londane abbiamo avuto richieste di gente che voleva affittarci terreni in zone che noi non potevamo arrivarci perché poi l'agricoltura a differenza dei servizi non la puoi fare a distanza di 100 km l'uno dall'altro perché l'agricoltura ha bisogno di mezzi strumentali che hanno un trattore come ci arriva a 40 km per essere proprio pratici però la gente che soprattutto quando siamo andati in città con le botteghe abbiamo spiegato il nostro progetto i clienti della città che poi avevano pezzi di terreno intorno alla città però erano distanti dal centro aziendale di produzione ma venite ho 10 ettari di questo 5 ettari di quell'altro prendeteveli a coltivatele non vogliamo nulla questa cosa nel nostro territorio non c'è stata dove ci servivano i terreni perché era lì il fulcro della nostra idea lì dove invece questa non potevamo realizzare perché bisognava spostare il centro aziendale le persone hanno risposto in modo più più positivo ma appunto perché fai parte di quel territorio e quindi nasce quell'aspetto culturale che ha un po' di pregiudizi rispetto alla l'imbresa e questo è stato un altro motivo per cui abbiamo scelto di fare cooperativa ha detto almeno così addolciamo la pillola è vero un altro motivo ha detto così addolciamo la pillola perché se creiamo un SRL o creiamo una società semplice cominciano i malumori invece quella cooperativa ma è una cooperativa immaginate come quelli che fanno le cooperative sono i poveri sono quelli che fanno le cose sociali socialmente utili poi molti non conoscono bene il sistema giuridico della cooperazione quindi la cooperativa è come un'associazione però hanno la partita IVA quindi era un modo anche per adrucire la pillola verità grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti